cari amici io non so se siamo in diretta ma spero di sì credo di sì buona serata a tutti dunque oggi volevo parlarvi di cristianesimo e paganesimo che differenza c'è che male c'è a essere pagani di conti non è che un pagano va in giro ad ammazzare la gente no come non lo fai tu non lo fa il pagano a cristo è stato senz'altro più grande rivoluzionario della storia il messaggio del cristianesimo è sempre sempre vivo sempre presente proprio perché pur essendo una religione è nato 2000 anni fa il suo virgolette portavoce cristo ha detto delle cose che sono assolutamente ancora attuali e che riguardano proprio la nostra essenza i nostri tempi tutto io adesso vi leggo il passaggio tratto dal vangelo dal vangelo matteo 6 25 è il passaggio più alto del cristianesimo adesso mi dicono che non si sente mi dicono che non si sente il video adesso vediamo un po' beh provo a continuare ancora un po' vediamo se si se si sente o meno allora il passo del vangelo vi dice questo perciò vi dico per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano e non mietono né ammassano nei granai eppure il padre vostro celeste li nutre non contate voi forse più di loro e chi di voi per quanto si dia da fare può aggiungere un'ora solo alla sua vita e perché vi affannate per il vestito osservate come crescono i gigli del campo non lavorano e non filano eppure io vi dico che neanche salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di vestiva come uno di loro ora se dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno non farà assai più per voi gente di poca fede non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo che cosa berremo che cosa indosseremo di tutte queste cose che si preoccupano i pagani il padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno cercate prima il regno di dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta non affannatevi dunque per il domani perché il domani avrà già le sue inquietudini a ciascun giorno basta la sua pena questo è praticamente il sunto di tutto il cristianesimo cosa vi viene detto e notate soprattutto la differenza tra cristiano e pagano cosa vi viene detto ma perché vi preoccupate per il domani perché vi affannate di cosa mangerete di cosa vestirete di cosa di cosa accadrà di allungare la vostra vita che tanto non dipende da voi ma non vedete gli uccelli del cielo le rose e i gigli come come sono belle sono hanno vestiti meravigliosi cosa c'è di più bello di una rosa esteticamente esiste qualcosa di più bello no e gli uccelli del cielo ma sapete quanti sono li vedete per caso hanno banche seminano mettono le riserve in banca no eppure mangiano li vedete non è che sono invenzioni esistono questi uccelli del cielo no sì e andando banche non lavorano non si ingegnano non si industrano non si preoccupano semplicemente vivono ed esistono questo è il messaggio questo è il vero messaggio del cristianesimo è questo distruggi le tue ansie non starti a preoccupare del domani non starti a preoccupare di cosa mangia di cosa vivrai perché l'esistenza sa già che tu hai bisogno di tutte queste cose è inutile che tu chieda l'esistenza sa già di cosa hai bisogno quindi tu prima cerca di affermare la tua verità cerca di lasciare di esprimere quello che hai dentro di trovare e esprimere la tua vera natura e di seguire la tua anima una volta che sarai in quello che ho definito tempo dello spirito tu non hai più bisogno di preoccuparti di nulla perché l'esistenza sa già in anticipo quello di cui tu hai bisogno così come sa in anticipo quello di cui hai bisogno l'uccellino o il fiore che cresce che sono infinitamente meno importanti di voi così sa già cosa avete bisogno voi quindi noi ci definiamo cristiani ma dal momento che è anche stato detto Gesù ha detto non è cristiano chi si definisce cristiano è cristiano chi fa le mie opere chi mi segue nella realtà facendo le mie opere e seguendo la mia parola dal momento che nessuno segue queste parole perché questa è la società più ansiosa e ansiogena che sia mai esistita nel corso di 5.000 anni oggi nessuno può definirsi cristiano oggi noi siamo pagani noi randaggi siamo rimasti gli unici cristiani su questo pianeta la cosa può piacere o meno ma noi che viviamo di fra virgolette provvidenza che ci affidiamo all'esistenza che non abbiamo riserve in banca non abbiamo niente però siamo gioiosi, fiduciosi perché tanto sappiamo che quello di cui abbiamo bisogno ci verrà consegnato noi siamo gli ultimi cristiani esistenti sul pianeta come fa a definirsi cristiano? una persona, una società che nemmeno fa più figli nemmeno fa più figli il ministro poi fa una campagna il ministro coglie il problema il ministro Lorenzini aveva colto il problema ovviamente è stata dileggiata da tutti anche perché aveva promosso una campagna in maniera abbastanza dilettantesca però nella sostanza aveva ragione questa è una società che non fa più figli una società che non fa più figli non ha futuro è inutile poi che si prenda con l'immigrato ragazzi qualcuno di questo paese ci dovrà stare i figli o li fate voi o se no è normale che vengono gli immigrati è inutile lamentarsi questa è una società senza fede ma lasciamo perdere la società tu sei senza fede essere senza fede non fa male alla società non fa male al tuo vicino di casa fa male a te non avere fiducia nell'esistenza preoccuparti Dio Dio cosa mangeremo quanti soldi manchi abbiamo cosa sarà se perdo il lavoro non fa male al tuo vicino di casa fa male fa star male a te se tu credi che ti preoccupi ti preoccupi di cose che non su cui non puoi avere controllo cosa serve che tu ti preoccupi di cose che comunque non dipendono da te ed è questa la differenza tra cristiano e pagano cristiano vive di fede di fiducia ha fiducia nell'esistenza sa che se afferma la sua verità se riesce a essere se stesso se segue la voce della sua anima tutto gli sarà dato in aggiunta mangiare bere vestiti gratificazioni serenità che forse è la cosa più importante il pagano invece crede non credendo crede di vivere in un mondo così fatalista dove fra elementi ostili dove tutto gli è contrario è ostile e quindi vive nel mondo vive nel mondo delle preoccupazioni vive nel mondo dell'automa vive nel mondo della macchina biologica e non conosce non conosce il tempo il tempo dell'anima tutto qui la differenza adesso l'ho definito cristiano ma potrei dire in realtà quello religioso di qualsiasi religione è un non religioso l'ansia le preoccupazioni inutili quindi adesso capisco che siamo in clima natalizio eccetera ma non sarà partecipare alla messa di natale non sarà ascoltare distrattamente litanie del prete che ascoltate da 30 anni a fare di voi dei cristiani cristianesimo lo potete applicare ma è un percorso potete applicare con calma nelle vostre vite ogni giorno riducendo la vostra ansia per il domani affidandovi all'esistenza che sa benissimo di cosa avete bisogno conosce l'esistenza io lo dico sempre poi possiamo chiamarla Dio possiamo chiamarla in ogni modo non importa ma l'esistenza sa meglio di te ciò di cui hai bisogno perché tu ragioni con la tua mente che si fa tantissimi trip si inventa bisogni si inventa bisogni che non sono bisogni sono bisogni illusori sono bisogni sociali che ti induce la società non sono bisogni tuoi che ti rendono felice sono invenzioni la tua mente e dice io per essere felice ho bisogno di diventare direttore di banca io per essere felice ho bisogno di sposare la donna più bella del mondo io per essere felice ho bisogno della Maserati e Lamborghini sono puttanate tu per essere felice tu non lo sai di cosa hai bisogno di essere felice invece la tua anima si quella vocina interiore che ti ostini a non ascoltare perché ormai hai preso un'altra strada e ti ostini hai paura di abbandonare la strada che hai preso magari da 30 anni per seguire quella vocina interiore che ti dice cosa dovesti fare ma quella vocina interiore quello di cui tu hai bisogno lei lo sa tu no e infatti cosa lo dimostra lo dimostra il fatto che non sei felice che sei sempre in cerca di nuove cose per sopperire il vuoto interiore che senti questo dimostra che non sei felice tutto qua quindi a me questa sfilata di sedicenti cristiani che assisteremo presenziare alla chiesa per dovere sociale e non per credo sinceramente sappiate che è solamente una grandissima messa in scena e che di cristiano anche il cuore temo ci sia veramente poco ma spero di sbagliarmi spero che possa spero che magari quest'anno possa essere l'inizio di un grande risveglio collettivo interiore devo dire la verità non ne vedo i segni abbiate fede nell'esistenza abbiate fede in voi stessi nella vostra voce interiore credete ciecamente nella vostra voce interiore non abbiate paura di buttarvi perché questo è da pagano non dovete aver paura se la vostra anima vi sta chiedendo vi sta chiedendo una sfida non abbiate paura di lasciare il sentiero su cui eravate se non siete felici abbiate paura di quell'infelicità e questa è la cosa grave che siete su questo pianeta avete questa vita e non siete felici perché sprecate sprecate questa esistenza nelle ansie nelle preoccupazioni in tutte le sciocchezze a cui l'esistenza penserebbe molto meglio che voi state sereni l'esistenza sostiene tutte non potrebbe non sostenervi perché l'esistenza è dentro di voi l'anima è dentro di voi la coscienza divina di cui la vostra anima è un frammento è dentro di voi quindi non potrebbe non sostenere se stessa la coscienza divina sostiene l'anima perché è la stessa cosa tutte le vostre anime sono un frammento della coscienza divina è normale che la coscienza divina non lasci morire le vostre anime non si suicida la coscienza divina ci suicidiamo noi perché siamo cretini ci suicidiamo noi perché siamo legati a tutte queste preoccupazioni a tutte queste ansie a tutte queste a tutte queste mentalizzazioni che ci fanno impazzire ci primano della fede ci sradicano e a quel punto sì ti succede al primo al primo squinternamento dei tuoi programmi ti ammazzi ti ammazzi vai in paranoia vai in ansia in farmacia vai in ospedale ma il vero cristiano il cristiano randaggio cioè l'unico vero cristiano attualmente esistente sul pianeta non teme queste cose ripeto non abbiate paura di rimanere senza soldi abbiate paura di rimanere senza felicità ma perché i soldi poi doveste averlo capito che vengono che vengono e vanno tutto nella vita va e viene siamo noi sempre nella nostra ignoranza a pensare che tutto sia definitivo perdiamo una cosa non la ritroveremo mai più questo è l'ottimismo che abbiamo inculcato nelle nostre menti mentre invece tutto torna abbiate invece paura la felicità invece una volta persa attenzione perché se sei sul sentiero sbagliato quella non torna più la felicità vera la tua realizzazione la trovi su un sentiero che è quello che la tua anima ti dice quindi tu devi scoprire quel sentiero ma ripeto basta ascoltarsi non è basta ascoltarsi di pulirsi delle false convenzioni che ti hanno messo in testa e il gioco è fatto ma è molto più semplice ritrovare soldi cose materiali eccetera che trovare invece una cosa spirituale come la felicità è una volta che hai perso i soldi i soldi recuperi una volta che hai perso la felicità campa cavallo non è per nulla detto che la recuperi quindi preoccupatevi di questo questa è l'unica preoccupazione che vi concedo io vi vi saluto vi auguro buone feste perché non so se faremo altre dirette prima di Natale vi aspetto tutti all'isola d'Elba dove faremo qualche piccolo esperimento di andagismo sarà un evento molto molto sicuramente spensierato a Lego come tutti i nostri eventi vi faccio salutare dal piccolo Fiocchetto che oggi compie un mese Fiocchetto saluta e buonanotte sì no Fiocchetto vuole dormire giustamente infatti noi lo mettiamo a dormire un caro abbraccio che lo spirito randaggio sia sempre vivo e ardente dentro di voi sogni randaggio a tutti